Allora ragazzi, siamo arrivati al termine di questa indagine alla struttura ex magazzino hobby e ex magazzino della Ford, dove c'era anche un'officina di ricambi e praticamente all'ultimo, gli ultimi video che vedrete, siamo stati guidati appunto da questa guardia giurata che abbiamo trovato che controlla la zona e appunto la struttura è stata una persona eccezionale, non ha avuto problemi, non si è creato problemi mi ha guidato tranquillamente, anche perché è anche lui curioso sia di urbex che di paranormale e nulla, naturalmente vedrete tutti i video completi sul mio canale YouTube un saluto e un bacio dal vostro Andrea mettete il pollicione per le notifiche e iscrivetevi se non vi siete iscritti ancora al mio canale alla prossima indagine, ciao ciao